A che pensi, Marcellino? Dove sarà la mamma tua adesso? Con la tua. Come sono le mamme? Che fanno? Danno. Danno. Danno sempre. E che danno? Tutto. Se stesse. La vita è la luce degli occhi ai figli. Finché diventano vecchie e curve. Anche brutte? Brutte no, Marcellino. Le mamme non diventano mai brutte. Dico andare via, mi chiamano. Tu vuoi molto bene alla tua mamma? Con tutto il cuore. Io alla mia di più. Bravo, Marcellino. Tu sei un bambino buono e io ti voglio dare in premio quello che più desideri al mondo. Dimmi, vuoi essere frate come fra Bernardo, come fra Pappina, come il padre superiore? Oppure vuoi che Manuel venga a giocare con te? No, voglio soltanto vedere la mia mamma e poi anche la tua. E vuoi vederle adesso? Sì, sì, adesso. Dovrai dormire. Ma io non ho sonno. Ti addormenterò io. Vieni. Dormi, Marcellino. Vieni. 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 Grazie a tutti